Il Marti di Grasso, organizzato dal comune di Pordenone, ha fatto contente tutte le età con una doppia proposta. Nel pomeriggio di ieri, infatti, i bambini e le famiglie si sono impossessati di Piazza 20 Settembre che, vestita festa, ha ospitato il tradizionale veglioncino, tra coriandoli, mascherine, festoni colorati e crostoli. I piccoli creativi si sono sbizzarriti realizzando fantasiose maschere, partecipando al laboratorio, draghi, serpenti e mostri con i denti. Divertimento assicurato, poi, con il trucca bimbi, allestito dagli studenti de Loyal e con i giochi organizzati dall'aguerrito staff dell'Oratorio Don Bosco. In piazza anche il picchiatamburi e verdolino, con un ricco repertorio di giochi, canti, racconti e magie teatrali per far sorridere grandi e piccini. Giunta la sera, spazio agli sketch comici dei Papu, che con lo spettacolo Chuck si gira tutti i pazzi per il cinema, a Casa Serena, hanno intrattenuto un voltissimo pubblico, in cui ospiti e visitatori si sono mescolati assaporando crostoli e frittelle, preparate dalle nonne pasticcere della casa. L'assessore comunale, Vincenzo Romor. Grande festa questa sera a Casa Serena, è l'ultimo di carnevale, il quartiere si riunisce come sua tradizione presso questa struttura, la vita dall'esterno entra nella Casa Serena e gli ospiti di Casa Serena non si fanno certo pregare e partecipano con grande entusiasmo alla festa che questa sera fa il passaggio tra la fase di gioia e allegria alla fase successiva di Quaresima. Il Comune di Pordenone è particolarmente contento e felice di questa iniziativa con la collaborazione di moltissimi aiutanti, non è soltanto l'animazione all'interno della struttura che ha partecipato ma ci sono delle associazioni, delle persone che portano il loro contributo per il successo di questa festa. Grazie a tutti.